e provata strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli, inesorabilmente tagliati dai perfidi di chi. Ma solo all'occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino e il mondo misterioso cui diritto lui appartiene. Un mondo più verena la magia, un universo popolato da cuffi, portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cammini di Bruxelles, ritratti che scappano e molto altro ancora. Il testino del giovane maghetto sarà quello di salvare il mondo dal mago oscuro Lord Voldemort. Harry Potter è una saga cinematografica fantasy, basata sull'anonima saga letteraria di Romicu, composta da otto lungometraggi usciti nell'arco del primo decennio del ventunesimo secolo, la quale ha ottenuto, al pari dei romanzi, un successo planetario. La musica dei primi tre film è stata scritta dall'immensurabile John Williams, il quale con grande sapienza e mestiere crea dei temi ricorrenti che verranno pre-represi anche nei film successivi. A questo punto entriamo a parte della magia dei suoni, è il mondo fantastico raccontato dalla scrittrice Rolling con il brano Highlights from Harry Potter. La musica dei primi tre film è stata scritta dall'immensurabile John Williams, La musica dei primi tre film è stata scritta dall'immensurabile John Williams, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.